Il volo a Z4000 è atterrato all'aeroporto di Sarajevo alle ore 8 e 58 e da subito l'ottavo viaggio apostolico di Papa Francesco è entrato nel vivo con l'incontro con le autorità della Bosnia e d'Herzegovina presso il palazzo presidenziale. A 18 anni dalla storica visita di San Giovanni Polo II in quella che è definita la Gerusalemme d'Europa per la coesistenza di diverse culture ed etnie, il Pontefice è giunto come pellegrino di pace e di dialogo per ribadire che la collaborazione tra le varie religioni in vista del bene comune è possibile, che anche le ferite più profonde possono essere sanate da un percorso che purifichi la memoria e dia speranza per l'avvenire. Le vicende drammatiche di guerra del passato hanno lasciato dei segni nel paese parte integrante dell'Europa ma oggi prevale il desiderio della pacifica convivenza. Abbiamo tutti bisogno, ha detto Papa Bergoglio, per opporci con successo alle barbarie di chi vorrebbe fare di ogni differenza l'occasione e il pretesto di violenze sempre più efferate di riconoscere i valori fondamentali della comune umanità, valori in nomi dei quali si può e si deve collaborare, costruire e dialogare permettendo all'insieme delle diverse voci di formare un nobile armonico canto piuttosto che urla fanatiche di odio.